GORMETI L'Iscador dice che siamo sopra all'isola dove si trovano i frammenti del magma del cuore del Titano. Possiamo... atterrare... subito? Certo! Forse se io... Non intendevo subito, subito! Non è colpa mia! La nave perde potenza! State tutti bene? La nostra bagnarola ha qualcosa che non va. Tu dici? Quella nave è un rottame. No! È stata inutilizzata per un fantastiglione di anni. È normale che si guasti una volta o due. Sembra che ci sia un problema con la trasmissione dell'energia alfa. Grandioso! Potete aggiustarla voi? Noi abbiamo un pezzo di cuore da trovare. Un frammento del magma. E magma? Significa fuoco. E fuoco? Significa Riff. Che cosa ne dici, Icor, mio vecchio compagno di missioni? Sei pronto ad andare all'avventura? Non possiamo avventurarci subito. Siamo bloccati nel luogo più strano di Gorm. Ci servono provviste. Sono sicuro che troveremo della frutta nella giungla. Non se ne parla. Io sono un guardiano di Gorm. Non raccolgo frutta. Non ci credo. Sto sprecando il mio epico talento in una missione di... approvvigionamento. Ascolta, prima troviamo qualcosa da mangiare, poi potremo... Guarda! Missione compiuta! Un frutto di zango. Maturo e succoso. Proprio come quelli del Regno del Fuoco, solo... dieci volte più grande. Sei sicuro che sia commestibile? Non hai mai mangiato uno zango prima d'ora? È molto più buono degli slog. Delizioso. Avanti. Assaggia. Senti. Cavolo. Marcio bruciacchiato. Vero? Lo zango è fantastico. FANTASTIC!